Tu invece dove abiti? Io abito a Vicenza Lui è di Vicenza, ci guardano da tutto il mondo, cerca di far capire quanto è bella Vicenza Ma poi è lontano da Vicenza, da Bologna, non si può arrivare Scusa, scusa, tu devi dire a tutti quelli che ci stanno guardando quanto è bella Vicenza, dilli che cosa c'è di bello a Vicenza C'è di bello le luci, Baba Natale, i sassi I sassi, e poi? E poi c'è anche, ci sono i palloncini appesi sul terrazzo, i coriandoli A Vicenza, in questa stagione? Sì